Anche se è stato un giorno di festa il primo maggio, festa dei lavoratori tra l'altro, c'è stato un cdm proprio in questa giornata particolare. C'è stato questo pacchetto di misure ad hoc che serve per appunto il lavoro approvato e un video di melone girato all'interno di Palazzo Chigi tra stucchi, quadri antichi, cose varie che ci sono lì dentro che mettono però in mostra tutta la bellezza privata del palazzo al posto della consueta conferenza stampa non indetta per un atto magari di cortesia verso i sindacati come invece puntualizzavano da Palazzo Chigi. E così l'esecutivo ha voluto così improntare il suo primo maggio al governo ma non senza farlo con polemiche da parte delle opposizioni e da parte dei sindacati. L'esecutivo non si ferma nemmeno nel giorno della festa del lavoro. Precisa Fiera Meloni nel video girato pochi minuti prima del consiglio dei ministri durato circa un'ora e mezza. Nel giorno della festa del lavoro il governo sceglie di lavorare e dare risposte dice mentre cammina verso la sala del CDM a Palazzo Chigi annunciando il taglio delle tasse sul lavoro più importante degli ultimi decenni e una scelta di cui vado profondamente fiera dice la premier mentre chiude il video suonando la campanella che dà l'avvio alla riunione del CDM. Con il CDM di ieri dunque il governo Meloni ha voluto dare risposte ai lavoratori con un decreto approvato nella data simbolica del primo maggio contenente diverse ed importanti novità come l'ulteriore taglio del cuneo che si tradurrà in 100 euro in più in busta paga, l'innalzamento del tetto di esenzione per i fringe benefit, l'addio al reddito di cittadinanza con l'arrivo dell'assegno di inclusione, le nuove causali meno stringenti per i rinnovi dei contratti a termine. Al termine della riunione, alla ministra del lavoro Marina Elvira Calderone, invece, il compito di illustrare le misure ai giornalisti davanti a Palazzo Chigi. La misura più corposa coperta dal deficit ricavato dal DEF è il nuovo taglio del cuneo fiscale, 4 punti in più per 5 mesi, ovvero da luglio a dicembre, che portano a complessivi 6 punti il taglio per i redditi fino a 35.000 euro e a 7 quello per i redditi più bassi, fino a 25.000. L'aumento in busta paga, stima il Ministero dell'Economia, è fino a 100 euro mensili di media, un aiuto reale contro il carovita e la risposta concreta alle chiacchiere, sottolinea il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Fringe benefit. Previsto anche l'innalzamento fino a 3.000 euro della soglia di esenzione dei fringe benefit per i dipendenti con figli minori. Addio RDC. Arriva l'assegno di inclusione. Dal 1 gennaio 2024 arriva l'assegno di inclusione per le famiglie con disabili, minori o over meno 60, mentre per gli occupabili, dal 1 settembre 2023 arriva lo strumento di attivazione al lavoro, con percorsi di formazione ma anche la possibilità anche di fare il servizio civile sostitutivo. Assegno unico. Esteso l'aumento dell'assegno unico per i figli orfani o con un solo genitori. Bonus assunzioni. Sono previsti incentivi chi assume i beneficiari dell'assegno di inclusione e i NIT. Prestazioni di lavoro occasionale. La soglia passa da 10.000 a 15.000 euro per chi opera nei congressi, fiere, terme e parchi divertimento. Contratti a termine. Ci sarà la contrattazione collettiva, spiega Calderone, allontanando le polemiche. L'obiettivo non era certo quello di rendere più precario l'utilizzo di questi strumenti ma di rendere più agevole l'interpretazione delle norme. Al decreto il Consiglio dei Ministri affianca anche un disegno di legge, con altre norme che vanno dai fondi per l'assunzione dei disabili ai meccanismi di applicazione della CIG in caso si lavori solo per alcuni giorni. Cari amici per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.